A D'Angrigento è stata recuperata e resa fruibile l'ex chiesa di Santa Sofia all'interno di Palazzo San Domenico, sede del Comune. Ascoltiamine a proposito il Sindaco, Lillo Fireto. Siamo nel chiostro di San Domenico, attuale sede del Palazzo Municipale e che fu sede dei padri domenicani. In questo nostro chiostro, all'interno del Palazzo, un ritrovamento che per noi è stato significativo e che abbiamo voluto valorizzare nel 2015. Ad angolo di questo chiostro, sulla sinistra dell'ingresso del nostro teatro Pirandello, vi era il magazzino comunale. Quindi tutto quanto era da scarto, veniva sistemato qui, cartacce, ma anche i resti della manutenzione urbana. Sono stati tolti da lì dentro ben quattro camion di rifiuti. Alla fine è stata eliminata anche una soperfetazione realizzata alcuni decenni orsono in maniera improvvida. Dentro una bella sorpresa. La sorpresa è una cavità ipogeale che fu l'absde della chiesa di Santa Sofia, una chiesa di epoca bizantina e che era stata poi evidentemente abbandonata. Noi abbiamo voluto con risorse veramente minime, infime, realizzare un recupero di questa cavità e lo abbiamo fatto grazie anche a una gentile donazione dataci dal nostro amico scultore Giuseppe Agnello. Nell'anno 2020, 2600 anni di fondazione, questa opera di recupero che abbiamo realizzato a beneficio della città e che vuole proiettare al futuro, recupera da un lato memoria. Però mi auguro che tutti i miei concittadini possano venire una volta nella loro vita per sapere che qui vi era una bella emergenza del periodo bizantino. Grazie.